L'annunciata contestazione di stamane, promessa e promossa dai Lanerossi Crew, uno dei gruppi più significativi della curva, è stata anche la prima assoluta in territorio bassanese, nello specifico allo Sporting 55, di Fellette, quartiere generale bianco-rosso, nei sei anni di gestione rosso. Gli ultra, un centinaio circa, hanno vivamente protestato nei confronti di squadra e staff, prima inneggiando alcuni cori. Onorate la maglia che portate, ha inaugurato la serie di rimastranze. Quindi, fermandosi a colloquio per un buon quarto d'ora col direttore generale Werner Seber, col direttore Luca Matteassi, col tecnico Stefano Vecchi e in rappresentanza dei giocatori, col leader difensivo Golemic. I supporter hanno rimarcato che non è più tempo di parole, ma che ora contano soli i fatti, sollecitando la squadra a una vigorosa reazione di carattere e temperamento da subito. Quindi hanno caldamente invitato l'allenatore Vecchi a spedire in tribuna le mele marce, se no, hanno detto, ti fanno fare la stessa fine di Diana e ti spediscono a casa. Per quanto si sia trattato di un confronto franco, schietto e serrato, tutto si è svolto comunque all'insegna della civiltà, non si è mai trasceso sotto l'occhio vigile di Carabinieri e Stuart. Domani, semmai, è attesa la risposta sul campo del Vicenza contro la Virtus Verona al Menti.